Dati contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Sinceramente non capisco, non so da quando è nata la mia passione per loro, questi esseri così abominevoli che riempono i nostri incubi, ma fatto sta che è da moltissimo tempo che leggo le loro storie. E non capisco tutto questo orrore, tutta questa pazzia, tutta questa malvagità. Non fraintendetemi, non credo che viviamo in un bel mondo fatato dove il male non esiste. Capisco che qualcuno uccida per mangiare, per difendere se stesso o gli altri, ma queste cose no. Feriscono, uccidono senza alcuna ragione, senza alcun motivo gente innocente che spesso ha solo la colpa di imbattersi in esseri simili. Semplicemente follia, esseri nati dalla follia, dalla paura e dal male, che non possono esistere veramente. Ma oggi basta. Dopo aver sentito questa storia ho deciso di smetterla di occuparmi di queste fantasie. Perché di fantasie si tratta? Non possono essere vere, per l'amor di Dio. Uno di loro ha spellato viva una bambina dopo averla ossessionata per almeno un anno, giorno e notte, facendola quasi impazzire, senza che i genitori ne sapessero niente. No, non ce la faccio più. Ho bisogno di almeno un mese per dimenticare tutte queste storie e ritornare a credere che gli umani siano solo il frutto di qualche mente malata.